Buongiorno dalla rappresentanza permanente d'Italia alle Nazioni Unite. Il nostro compito qui in rappresentanza è di rappresentare il nostro Paese in tutte le applicazioni quotidiane che sono in corso alle Nazioni Unite. Queste aree di applicazione si possono sintetizzare nei tre grandi pilastri che sono significativamente indicati dalla stessa Carta delle Nazioni Unite. Si tratta dei settori della pace e della sicurezza internazionale, del rispetto dei diritti umani e dello sviluppo sostenibile. Attorno a questi tre pilastri le Nazioni Unite svolgono un'azione quotidiana qui a New York che svolge ovviamente degli effetti in tutto il mondo e in particolare nei Paesi di applicazione in cui operano le Nazioni Unite.